Ciao a tutti, siamo con Luca Colombo, Country Manager di Facebook Italia. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, oggi si parla di social media, brand e strategie di business. La prima domanda può riguardare proprio Facebook, ovvero qual è il vostro modello di business? Domanda anche abbastanza attuale dopo la quotazione in borsa e quanto ne consegna? Ma in generale oramai è tutto pubblico, quindi basta un po' andare a leggere siti e vedere quelle che sono le due principali fonti di revenue di Facebook e sono, facendo riferimento al 2011, l'85% del fatturato è stato realizzato attraverso advertising, quindi il nostro primo obiettivo è cercare di spiegare alle aziende come sfruttare la nostra piattaforma per fare comunicazione verso consumatori e il secondo è quello dei Facebook Credits, quindi una valuta che viene impiegata su Facebook per acquistare dei servizi, definiamoli così premium. Quindi che cosa fanno le aziende su Facebook e dal vostro punto di vista ovviamente privilegiato qual è il feedback degli utenti? Abbiamo feedback di tutti i tipi e le aziende stanno imparando a farne tesoro perché siamo ancora in una fase dove le aziende tendono a comunicare ma poco dialogare e questo, il feedback di ritorno è qualcosa che viene ancora un po' sottovalutato e non tenuto in considerazione. Dall'altra parte cosa fanno poi sulla nostra piattaforma le aziende? Diverse cose, diverse cose nel senso che ci sono ormai moltissimi campi di applicazione di social media, parliamo in generale non soltanto di Facebook, quindi dal customer service, oramai banche, telco, compagnie aeree, utilizzano le pagine di Facebook come canale complementare a quelli tradizionali per servire i propri clienti. Sì, ti puoi aggiornare sugli ultimissimi numeri di Facebook in Italia? Sì, siamo oggi in Italia a 22 milioni di utenti attivi nel mese, quindi utente attivo vuol dire un utente registrato che fa almeno un'attività nell'arco di 30 giorni, che vuol dire scrivere un'email, commentare, di questi e del dato che a me piace sempre un po' sottolineare e sono 14 milioni di utenti che ogni giorno utilizzano Facebook in Italia, quindi un numero che è certamente ben superiore a tanti altri mezzi. Da un punto di vista invece di accessi da mobile, in questo momento siamo ad un valore di utenti mobile attivi nel mese sopra i 10 milioni. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.